la tomba c'è via si si va è pronto devi correre ma fino a lì do fino a lì do tornare dalle spine dalle spine muovati prima dalle spine siamo in diretta siamo in diretta da là come si va a rubare no no da là eh bravo vai questo bastardo non è che si è finito mi stai giocando tutti i piedi porco addio io invece no ti ho fatto il tuo video sbrigati pranzi del raffaele non vedi che è data devo arrivare anche al colonna una gran maratona ecco che arriva non è che è un brato no no di più di più là di più là ecco lui da là devi andare da là ti bella ti bella vai da qua devi venire da qua da qua da qua da qua vabbè sindi SI o пожалуйста Sicher che riesca non lo so non li so e poi va e va allora dallo prima fila no no ora la vera non parmi ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.